Allora oggi vi recensisco una pizza. Allora le pagine a colori sono queste, poi abbiamo delle pagine bianche con un po' di trasparenza abbiamo anche un po' di verde, la Planet Manga non si è risparmiata, ecco abbiamo anche una pizza poi abbiamo, cos'è che abbiamo? Abbiamo la pasta. Allora la pasta ha le bandelle che a me non piacciono troppo però insomma nel suo complesso quanto costava? 7 euro e 5? No 8 euro, è un buon prezzo data l'edizione che insomma è un'edizione quindi ragazzi io vi vado a mangiare, buonanotte!